Ciao a tutti amici benvenuti e bentornati su Dead Island 2 come al solito io sono Amor, uscivi dal benvenuto in questo prossimo video mi raccomando amici come sempre supportate questa serie con un bel mi piace, commento e una condivisione iscrivetevi al canale se siete già iscritti e attivate la campanella, pagina Instagram, Facebook, gruppo, Telegram sapete già tutti i link sono in descrizione come anche in descrizione la playlist di questa serie di questo gioco ammazza zombie da fracassare il cranio ai fottuti zombie mi raccomando vi ricordo anche in descrizione Instant Gaming che è una piattaforma per comprare giochi tipo questo ma prezzi scontati ok a parte un po' di incertezza iniziale ci siamo ci siamo allora dunque nella scorsa puntata un bel po' di boss fight adesso dobbiamo andare avanti dobbiamo andare avanti da questo punto qua andiamo di qua e vediamo cos'altro succede però vi dico già sapete dei problemi che ogni tanto questo gioco ha non capita a tutti ad alcuni capita non sono i requisiti minimi di sistema è un po' tra la pesantezza del gioco e qualche baghettino qua e là però staremo a vedere se le modifiche che ho fatto funzioneranno oppure no io spero di sì bene allora sono uscito dalla zona quella lì stiamo tornando verso Bel Air la strada se non erro era di qua abbiamo anche comunque l'indicatore la cosa bella è che ridroppano le cose per meglio dire ridroppano gli oggetti non le cose però va bene così insomma quindi andiamo da questa parte qua e continuiamo da questa parte qua direi che cos'è sto casino è sto casino barcollante lì che casino faceva sembrava guardate quanti ce ne sono c'è uno anche enorme guardate i cavoli no 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 ho sbagliato tasto calmo 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 sbagliato tasto ho sbagliato tasto stai calmo quello volevo lanciare questo per mettere un po' di casino andiamo da questa parte qua ma quanti ce ne sono no 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 ok fughiamoci fughiamoci fughiamocela dentro di qua e F vuoi raggiungere Bel Air assolutamente sì sono qua apposta vabbè l'obiettivo è andarsene quello è chiaro però ad andarsene a riuscire ad andarsene c'è una bella differenza ma vedi clickbait che cavolo è successo? ma che cavolo è successo? è una missione secondaria clickbait devi tornare no clickbait che è questa sul tetto del recinto delle capri si sono verificate delle esplosioni sembra essere un'opera di una giovane donna entusiasta con una telecamera qualunque cosa stia filmando lassù potrebbe aver bisogno di un paio di mani in più per finire clickbait ok clickbait dove cavolo è clickbait il tetto intende sopra qua? credo di sì esplosioni sul tetto recinto delle capri vai a controllare eh sì il recinto delle capri è proprio sopra eccolo lì guardate lì questa sta usando gli esplosivi a go go ma alla grande proprio alla grande ma vai via te maledetto che sto cercando di no no stanno arrivando tutti brock delle capre tra l'altro anche eh beccati qua brock delle capre ok cambiamo cosa qua tac e gli lanciamo questi sto becc oh c'è ma questo qua è tipo quello che la boss fight che abbiamo affrontato eh il tizio qua è simile a quella eh alla fine vieni qua vieni qua 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 devi venire qua così prendi un attimo fuoco almeno qualcuno prende fuoco di cavoli via dentro qua riusciamo a mandare a fuoco qualcosa c'è a fuoco elettrificare qualcosa questi entrano dentro qua un martello entrano entrano questi entrano oh via 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 e io vorrei salire la se è possibile forse riusciamo non mi ricordo da dove cavolo si saliva problemi ci sono eh e noi dovremmo andare la dalla tizia là sopra tu vai per terra perché tanto non non me ne frega niente di te boh e potremmo salire bello questo set potremmo salire non lo so da dove adesso capiamo siamo inseguiti dagli zombie ma vabbè cosa dobbiamo fare cioè non è che abbiamo alternative oh il badile c'è anche qua vai ok qua c'è un'entrata e forse dobbiamo passare via qua muori male muori male tua arma si è rotta e te pareva mi sa che sta arrivando anche quello grosso così a vista potrebbe arrivare anche quello grosso ma ma andiamocene via da qua forse dobbiamo andare appieno sopra toh beccati sto colpo morta? sì andiamo qua forse ci siamo eh dovrebbe essere qua da qualche parte la tizia fuori lì? no pensiamo esattamente cacceva dovremmo andare sopra ancora va bene adesso la tizia è qua eh intanto rubiamo un po' di roba che male non fa andiamo da questa parte qui andiamo qua c'è qua? no c'è il pieno sopra ancora allora è qua eccola qua è qua è qua guardala qua qua sopra amanda che amanda? che vuoi amanda? cioè devo venire proprio sopra di te lì? qua esplode tutto amanda il segnale stradale c'è anche cioè qua bisognerebbe fare un po' di bisogna fare un po' no non volevo selezionarla recicliamole prendiamo anche il segnale stradale il segnale stradale ci sono allora dobbiamo andare sopra lì penso eh adesso a vederla così il problema è come? pure dobbiamo andare sopra lì? ah ok bastava inquadrarla no i follow us and what? vabbè qui è tu? ah dai io sono amanda stiles la stessa top trending girl in the juicy flesh ma oh f*** tu non vedo la mia video? ho fatto la pubblica per sicuramente questa volta e perché stai esplodendo zombie? oh non mi chiedi stai esplodendo questo sì stai esplodendo questo s**t show a camera quando i miei video di zombie vittoria 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 saranno riusciano per uscire per salvare i nostri l.A credo che potrebbe pressurare il governo per scopare la quarantina e venire salvare Sì? Il problema è che è molto difficile ottenere la scuola in quanto riguarda i corpi. Oh no! Idea! Abbiamo collaborato! Lure suckas qui, tu lo finisci in un'amanda style, e io ottengo una scuola crystal clear! Ok, io farò un'ottima zombie per il tuo video. E' sicuro che non diventa una meme, ok? Bello, bello questo qua Spara la musica per tirare gli zombie E dare il via a una bella rissa sul tetto Quindi abbiamo un bella, bella, bella missione Accendiamo la musica E lancia giù dal tetto un po' di bastardi Oh cavolo, mangia i cervelli I fottuti zombie Eccoli qua Dobbiamo lanciarli giù dal tetto Quindi in qualche modo lo faremo? Sicuramente No, beccati sto colpo Espezione Ok, via, via, via E doppio calcio volante riusciamo? Sì, è uno Due addirittura Via, altre due Massimo, non il massimo della comodità Però, vabbè, ci stiamo riuscendo Così, vai Nuovo livello, tra l'altro Molto bene Questa, via Via E via No, non l'ho mancata No, non l'ho mancata No, l'ho mancata Allora, vieni qua Eeeh, basta No, il corridore, no, il corridore, no, il corridore, no Via Doppio, che sono gemelli questi qua Via, via, via Dai, dai, alzatevi Su, 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 su Eeeh Eccolo qua Che cacchio è successo qua? Un disastro Esploso mentre li tiravo giù Eeeh Ne dai, però Eh, vabbè Vabbè Eeeh Che dobbiamo fare Mettiamoci qua così Aspettiamo che arrivi di qua E di E niente home È una cosa pazzesca È una cosa pazzesca Vai di qua Vai Vai Vai, vai Che sei giù Boom, è caduto E aspetta che sto quasi morendo Zitta, un attimo Perché Armanda ti ha fermato Vuole qualcosa di diverso Quindi Un casino Va bene Oh, basta No, adesso Hai qualcosa di diverso Preparati Punta gli arti E mutila lì Mutila lì Vabbè Avete capito Il problema Non è tanto di Punta gli arti Bisogna tagli Beh, basta Eeeh Basta anche te Via Allora, diamoci Tu eeeh Col martellone Non so se riusciamo Vabbè, sì Però non è molto veloce Con questo Con questo facciamo danni Questa facciamo danni Siamo agli arti Barretta Questa ride Maledetta Via Adesso venite qua A go go Proprio Come se non ci fosse un domani Esplode tutto Allontaniamoci un attimo Vieni qua Maledette Eh, questa è esaltata E mancano due E un po' questo qua Vai Un bel colpino qui Lo raccogliamo Che ci serve Qua c'è un'altra Stanno arrivando Dei corridori Maledetti corridori Che sono Pericolosissimi Ok, molto bene Te Beccati sto colpo Kit medico Giù dal tetto Aia Oh, maledetto 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 Via, 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 via Manca uno Non riesco a colpirli Agli altri Cioè Ok, adesso sì Cioè E' nice, è nice Fammi curare Maledetta Ancora Ah, ok Aspetta Con calma Fammi raccogliere le armi Almeno Maledetto Fammi raccogliere le armi E che cavolo Brulini Questo vuol dire Brulini No Brucia Forse Inteso Brucia gli zombie Sarà Io vado qua Io qua Io qua Io qua Io qua Io qua Sì Sembrerebbe di sì Io qua Io qua Mi voglio farli arrivare qua Questa zona qua Wow Vieni qua 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 Preso fuoco No Serve benzina Benzina con le altre cose Caccio Venite qua 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 Justi cavoli No Non cadere Vieni qua Il problema è anche quello Ce n'è uno enorme Ma vediamo Ah Per noi abbiamo Attenzione Ma noi abbiamo anche Eh 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 Amon Uno sta prendendo fuoco Molto bene Andiamo di qua Abbiamo anche La bomba Dai Quattro su sei Preso malissimo Ok Questi vanno giù Ne mancano due Ne mancano due Uno ha preso già fuoco lì Però non l'ha contato Dammi la barretta Caccio Eva Che qua Deve ricaricare l'arma Che abbiamo Sarebbe meglio Se no Li mandiamo verso il fuoco Così Ok Forse ce ne sono veramente troppi adesso Andiamo un attimo qua Vieni 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 Ok Perfetto Cinque Questa è Pericolosissima Via Ok E là Cavolo Non sono riuscito a fargli danni No Non cadere Uh Oh c'è Questa Corridorice Corridore È pericolosissima Pericolosissima Aiuto 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 Oh Aiuto Via 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 5 su 6 Non ne mancano tanti Ok Adesso l'abbiamo presi tutti Basta Fai piazza pulita Avrei Delle riprese Da paura Cavoli Allora Aspettate Questo qua È pericolosissimo Ma noi Abbiamo la tecnica Abbiamo la tecnica La tecnica L'abbiamo imparata Eeeh Corridore La tecnica L'abbiamo imparata È lanciare la bombetta qua Che crea casino Minarlo E allontanarsi E ripararci Curarci Tutto Però Questo qua È via E che cavolo E se no Li tiriamo giù Un po' tutti Via Ok Così si Si fa male da solo Io vorrei Adesso che Adesso arrivano questi qua Li portiamo da questa parte Vieni qua 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 devi venire Qua 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 Guarda Eccolo lì Beccati sto cosa Anche Potrebbe esplodere tutto Questo Doppio calcio volante Via Via E qua E qua Che sono Sono pronto Sono pronto Guardalo qua Via Oh Cos'è Cos'è successo Sei morto Anche tu Ti faccio vedere ste riprese maledetta Morti tutti Sì Seguitemi Iscrivetemi Mannaggia te Allora Attenzione un attimo Inventario Abbiamo qualcosa da poter Far fuori Che non ci interessa Dire di no Vabbè Fai niente Questa è pazza È pazza Lascio un commento Ad Amanda Un commento che ti lascio Non so cosa ti Ma però Vabbè È stato fenomenale Vabbè Ecco vai a editare il video Ok molto bene Carina sta missione Nuova carta superstite Tra l'altro Quindi qua E Vediamo Questa è Fa pezzare Gli attacchi Con calcio Subito Indeboliscono gli zombie C'è la nostra arma Molto bene Allora Fatta questa missione Possiamo tornare Alle no Nostre missioni Oh oh Il frantumatore Poi guardate Poi guardate È pure intelligente Perché evita Gli ostacoli Ma noi eviteremo lui Ma noi eviteremo lui per ora Eviteremo un poto di zombie Tra l'altro Però questo Però questo lo proviamo subito Poi Mentre eviteremo un salto potente Eh così la prende Ok con questo la prende Cioè tipo Ok è successo qualche casino Avete notato Di gente che urla Ok il calcio è netevolmente Più potente Questo è sicuro Ci sono i Dai prendi l'elettricità tu Ok molto bene Arrivano pure da dietro Via 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 Andiamo di qua C'è un bel casino Ok andiamo di qui Andiamo di qui Cosa cavolo vuoi Cosa ti urli Maledetta Via via Ok Allora andiamo sopra di qua Dobbiamo tornare da Emma Con le novità eh Ma che cavolo Ma arrivano ovunque Questi qua Via Ok suoniamo Tifofono Ma ho aperto Ma ho aperto Di Emma le novità Sul dottor Reed Sono disponibili Nuovi contenuti Una storia Trovo un invito Un invito Nella villa di Emma Per entrare da House Da qua House Abbiamo House In effetti Che è da questa parte qua Che in realtà è qua Eh sì E faccio Bambassa di tutto Trailer di presagio Trailer di presagio Di morte Suona il campanello Rumore di passio Giusto In tempo per la sorpresa Risate Bevande Bevande versate Bicchieri tintinnanti Bicchieri che si rompono Che diavolo Tonfo Il tocco dell'ordogio Si farà uccidere anche lui Scordatelo Tonfo Sussulto Tonfo Cos'hai detto Risate distorte Cracchiare di uccelli Respiro affannoso Ehi pistola caricata Fai attenzione Colpo di pistola Clacson che suona Andiamo Rombo di motore Stridio di gomme Colpi di pistola Ok Scusa Amanda Sta tranquillo E questo è quello Che è successo Che abbiamo letto Appena adesso Però volevo capire Una cosa io Qua c'è il tizio Va fuori il tizio Da qualche parte Credo di sì Non posso fare il calciovante Ah forse è sotto di qua Non è giusto per capire Fuori di lì Ci fa uscire O è fuori di là Quindi forse da qua Riusciamo ad arrivarci Giusto per capire È un invito Eccolo qua House Oh caccia Eva Cos'è successo Le trappole con fucili Sono attivate Da cavi di innesco Dalle piastre a pressione Con un po' di impegno Potreste attirarci sopra Gli zombie Oppure disarmare i fucili Per raccogliere le munizioni Ok Sembra aver caricato qualcosa Adesso vediamo di capire Che cosa però Qui è qua Oh Filmato forse Oh sì L'invito L'invito Nuova missione Storia Infatti un invito magico Bellissimo però Guardate Esatto Qualcuno può spiegarmi Cosa sta succedendo Anche a me Grazie Andiamo avanti però di qua Vediamo un attimo Se troviamo qualcosa Di interessante Sare un film No Un qualcosa Benvenuta da Mi chiamo Tu sei Io più giusto Sì Ok Quello che abbiamo Sentito Poc'anzi Ma io mi chiedo Qua Nelle missioni L'invito Così rimane Ok Dove sei Perché se no Rimaneva l'altra missione Abbigliamento in latte Ma lo so Qua si può scaveggiare Però Dove cavolo siamo finiti In un film Dove siamo finiti Ho aperto la porta di lì Ok Allora Di lì si va avanti Di qua Oh c'è il nostro Bellissimo Posto che ci piace molto Posto che ci piace molto Assolutissimamente Che robe strane Che ci sono qui Comunque va bene Andiamo qua Ok Qua possiamo Sicuramente Riparare Questo È già potenziato Ripariamo questo Cioè andiamo a riparare Un po' le nostre armi E Trasferiamo Direi Quanto meno Ci sono delle armi Che Questa è proprio Fa veramente Pessima Questa pure Via Possiamo venderle Anche le armi Però Anche questa È pessima Però teniamo Per ora Il martello Mi piace tanto Ok Lasciamo un po' di armi Così Queste la ripariamo Ovviamente Andiamo a riparare Questa Andiamo a riparare Questa Andiamo a riparare Questa Ma Io direi Potenziarne anche Qualcuna Perché non potenziamo Ad esempio Questa Con Nessun oggetto No Con questo Allora abbiamo Efficienza O peso piuma Efficienza Ovviamente Benissimo Questo Possiamo Potenziarlo Anche questo Farei con Efficienza Un attimo Le nostre armi Perfetto Alla grande Allora Una volta potenziate Vi dico che Per questa puntata È tutto Andremo avanti da qua Mi raccomando però Supportate questa serie Con un bel mi piace Comment e una condivisione Iscrivetevi al canale Se siete già iscritti Attivate la campanella Pagina di Instagram Facebook Gruppo Telegram Tutti i link Sono in descrizione Come anche in descrizione L'appellisti Questa fantastica serie Per cui da amor Ruge è tutto E ci vediamo Al prossimo Votuto video Ciao a tutti Ciao a tutti